individualmente a proporre e quindi le cose si possono unificare e quindi la strategia del danno, che era un piccolissimo finto, non la ripete, aveva questa doppia visione, una visione, diciamo, primitiva sui colori, perché anch'io era un primitivo che non avevo studiato la lettura classica, e una visione di una prospettiva infinita che veniva da Nermi Vitte e quello ha cominciato ad essere un nostro primo contatto. E poi c'è stata una sequenza fondamentale, tu lo ricordi quando lui, altro spagnani, va su accusato, la storia di un grande scrittore, Borbius, che si chiama la storia dell'eroe del traditore. Un gruppo di signori si mettono d'accordo per uccidere Mussolini quando viene in questo piccolo paesino a fare una dichiarazione, eccetera. Poi uno di questi ha paura e denuncia questo complotto e quindi viene accusato come un traditore e quindi gli altri amici vogliono ucciderlo. E lui dice, aspetta, aspettate, non uccidetemi così. Lì porta sul campanile e dice, vedete, Tara, si chiamava in omaggio a... Diacolvento. Diacolvento. Dice, costruiamo una storia in cui io sì, devo ucciso, sono ucciso. E chiamo a... dovrebbe dire che gli risulti in un certo modo che si costruisce questa cosa. E io dentro questa piccola torretta, un pochino forse per i pochi mezzi tecnici che avevo, non lo so perché mi è venuta, dissi, Bernardo, ma questa è una cosa, una istituzionaria rispetto all'establishment. Io non credo che ci sia bisogno di vederlo in viso. Potremmo lasciarlo in una silhouette. Cioè che deve entrare un secolo. 1969. Bernardo mi guarda e dice, casca, è un'idea fantastica, mi piace molto, però vorrei farla capire al pubblico. Non vorrei che pensassero perché non abbiamo la luce. Allora organizzo con un piccolo flash che avevo e un panno nero con i macchinisti che mi stanno intorno e mi aiutano, illumino lui all'inizio quando parla e spiega questa cosa inizialmente a questo gruppo di persone e poi piano piano allontano questa luce, chiudo questo panno nero e lui diventa una silhouette. Adesso si è perfettamente in casa. Qual è stata questa combinazione tra me e lui? Bernardo, tutte le esperienze, lo vedete ancora nel conformista, nell'ultimo d'anno, eccetera, si esprime, avendo fatto molta psicanalisi, non solo con la coscienza ma anche con l'inconscio. Non solo dice le cose, certe cose sono suggerite e io stranamente sentivo questa cosa nel usare la luce e l'ombra. Questa combinazione è stata l'apporto di 25 anni di cammino fra me e Bernardo Pettolucci. L'inconscio è il cosciente, la luce è l'ombra. E così attraverso Borges che già parfrasava i Vangeli perché dietro insomma c'è la storia di Cristo e di Giuda, il primo tradimento della storia, poi tutto questo è rinasce nelle campagne, dell'Emilia e quindi poi con strategia del ragno. Hai una memoria formidabile Vittorio, io credo che la memoria sia una parte fondamentale della tua arte, del tuo lavoro, della tua riuscita. Io credo che appunto è una combinazione di attenzione e memoria, attenzione anche ai rapporti, sempre a chi hai davanti, la capacità appunto di stabilire un rapporto forte, profondo, subito, che non è, non è di tutti e soprattutto non è di quelli che appunto molti dichiettano subligativamente come tecnici che invece sono creatori in senso stretto appunto, sono coautori in qualche modo poi delle immarci.